Al minuto 83 preparati via questa delizia balistica, qui Biviglia lancio con le contagiri da oltre 40 metri a servire in profondità Mortaro che è freddissimo nel leggere la situazione e beffare con questo pallonetto divino. Battistelli proteso in avanti, il Marinangeli si scioglie per il capitano Maglia 10 al settimo gol in campionato. Loving can hurt, loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know, when it gets hard, you know it can get hard sometimes, it is the only thing that makes us feel alive. Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione